Assessore allo sport Giuseppe Speranza, novità sul fronte delle iniziative nel mese di settembre. Sono in programma qui a Torre del Greco due interessanti manifestazioni. Due di una serie di manifestazioni che partiranno dal 3 ottobre in poi, anzi già giorno 19 settembre avremo il Walk Zone, una manifestazione che si terrà presso il Parco Salvo d'Acquisto colgo l'occasione per invitare chiunque appassionato di questo tipo di disciplina a partecipare magari fare l'iscrizione attraverso la pagina Facebook del Walk Zone e poi poter partecipare il giorno 19. Inoltre le altre manifestazioni che abbiamo già in itinere è il Giro di Rosa della Campania e Torre del Greco sarà tappa finale di arrivo di questa manifestazione. Sarà un momento veramente molto interessante per la città, ci sarà un modo anche promozionale per tante attività locali e per la nostra città. In ultimo, ma non ultimo, il giorno 24 di settembre avremo poi un raduno nazionale di Mundan Bike che impegnerà la Stravesuvio. Noi avremo appassionati di questa disciplina di Mundan Bike che verranno da tutta Italia e addirittura mi risulta che sono prenotati anche non italiani, gente che verrà dalla Svizzera, dall'Austria, in questo meraviglioso territorio che è nei pressi della zona di Valle dell'Orso. Lì faremo il punto di concentramento per poi attraversare tutto lo stradello circunvesuviano che attraversa il Vesuvio. Saranno dei momenti interessanti, quindi colgo l'occasione per invitare la cittadinanza a partecipare. Questo vuole essere solo un'anteprima di notizie, ma sicuramente ci saranno altri comunicati più specifici.